Eccoci ragazzi bentornati sul mio canale, oggi entriamo a gamba tesa su tutti a mio avviso i Pro e i Contro dei nuovi iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max Vi lascio qui in alto a destra il video di ieri sera della conferenza dove vi ho fatto il recap di tutte le novità dagli Apple Watch all'AirPods e via dicendo Poi domani uscirà un video sempre contestualmente a questo evento con i Pro e i Contro dell'iPhone 16 e iPhone 16 Plus Mi raccomando qui sotto nei commenti, dubbi, domande, un bel like e via dicendo Prima di iniziare vi ricordo lo sponsor del video che è Nebba, ogni acquisto che farete sul sito tramite il link in descrizione supportere il mio canale Troverete gift card, abbonamenti, chi più in appena metta di tutto per i tunes, Xbox, Amazon, Netflix e Playstation E poi il mio canale di Telegram per gli aggiornamenti con tutti i video del giorno e soprattutto tantissime offerte per risparmiare su Amazon Ma non ci perdiamo in chiacchiere perché ieri sera sono stati presentati i modelli iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max Ancora più Pro rispetto a mio avviso ai precedenti Perché? Perché quest'anno nonostante il design è rimasto a grandi linee simile Poi vedremo le piccole differenze anche se non sono piccole a livello estetico Sui Pro hanno messo delle funzionalità che li rendono ancora più avanzati Soprattutto sotto il comparto microfoni, audio e video Fatemi dire i due Pro che già mi fanno storcere il naso e che vi voglio dire ad inizio video La prima cosa che non sopporto è che nel 2024 che tu mi dai un Pro Che ripartiamo nuovamente dai 1.239 euro o 1.400 e passa sui 16 Pro Max Non mi puoi a 1.200 euro proporre un iPhone 16 Pro con 128 gigabit nel 2024-25 Perché ormai è un taglio base veramente passato Troppo piccolo, non va bene per i tempi d'oggi e soprattutto col fatto che aumentano anche le fotocamere Le foto in RAW eccetera eccetera non si può partire con 128 di base Seconda polemica, invece il Pro Max parte da 2.56 è giusto per specificare Seconda polemica che devo fare su questi modelli Pro ma che poi farò su tutta la line up di iPhone 16 E' la questione dell'intelligenza artificiale Stanno vendendo un prodotto, l'iPhone 16, l'iPhone 16 Pro con le due varianti Con l'Apple Intelligence dove l'Apple Intelligence non ha una data di rilascio in Italia Ieri è stato mostrato anche con nuove funzionalità Abbiamo visto quello della key on up, la possibilità di rimuovere oggetti a schermo Avevamo fatto anche uno shorts, la possibilità di fare una foto ad un determinato paesaggio A un locale e ci dà le informazioni, le immagini, le recensioni eccetera eccetera La possibilità di tradurre un dialogo C'è sicuramente un quid in più ma come faremmo noi in Italia ad utilizzarlo Se ancora non c'è una data per la lingua italiana A brevissimo, il prossimo mese arriverà appunto in versione beta con la lingua inglese Il prossimo anno è stata data, almeno per l'Europa, l'arrivo anche dell'Apple Intelligence Lingua francese e lingua spagnola La lingua italiana non ha avuto una data ieri nell'evento E quindi questi a mio avviso sono due brutti contro che bisogna dare contro i modelli Pro Ma andiamo a vedere invece cosa presentano i nuovi modelli iPhone 16 Pro che partono e poi lo andremo a vedere con due tagli di schermi diversi rispetto ai precedenti 6,3 e 6,9 rispetto ai 6,1 e i 6,7 precedenti Sono stati assottigliati i bordi che diventano ancora più sottili per rendere lo schermo ancora più grande rispetto ai precedenti Quindi non soltanto una questione di grandezza in termini di pixel ma anche un lavoro molto importante a livello di cornici E' stato introdotto anche il processore potentissimo a 3 nanometri seconda tecnologia A18 Pro Mentre come sappiamo sui base abbiamo comunque l'A18 che spingerà tantissimo Poi ne parleremo nel video di domani Ma andiamo a vedere le altre caratteristiche con la possibilità di come potete vedere le diverse colorazioni Le andiamo a vedere con il titanio naturale La nuova colorazione appunto questa qui diciamo sabbia che l'hanno chiamata Desert Titanum La versione in bianco e la versione in nero 6,3 e 6,9 i comparti di quest'anno Titanio, titanio di quinto grado e dicono loro che sarà ancora più resistente Come state vedendo è stato abbandonato questa finitura spazzolata con un titanio Diciamo e come l'hanno definito loro in una finitura micro sabbiata E dicono che diventano incredibilmente leggeri e allo stesso tempo più robusti Ma da quello che vedevo come specifiche tecniche quest'anno il 16 Pro e il 16 Pro Max dovrebbero essere leggermente più pesanti rispetto a quelli precedenti Vi ho parlato del processore A18 Quest'anno tutta la line up dell'iPhone 16 avrà 8 GB di RAM Prestazioni dicono del 20% superiore rispetto all'iPhone 15 Pro Poi andremo a vedere altre comparazioni sempre rispetto al modello precedente Quindi display più grandi, cornici più sottili e soprattutto dicono display più luminosi Questa cosa non andrà per niente a inefficiare la batteria che quest'anno sarà la più duratura in termini di ore Ma andremo a vedere più avanti Ma parliamo soprattutto del comparto fotocamera Notizia che vi ho riportato veramente tantissimo in queste settimane Il nuovo tasto cattura che l'hanno chiamato Camera Control Un pulsante che si va a posizionare sotto il tasto di accensione Che ci permette con un semplice tasto di entrare in fotocamera e poi scattare una foto Con un semplice tasto di accedere alla fotocamera e tenendolo premuto di registrare Se lo teniamo premuto entreremo nella sezione delle varie opzioni Quindi entrare nell'esposizione luminosi Vi dicendo invece se lo slidiamo potremo fare lo zoom in e zoom out Sicuramente interessantissimo questo pulsante Che renderà ancora di più il comparto fotografico Già da sempre diciamo punto di forza della line up di iPhone 16 Ancora più potente Quindi interessante anche per la messa a fuoco soprattutto poi quando dobbiamo anche registrare E siamo soltanto con una mano Arrivano inoltre i video 4k a 120 fps E ieri abbiamo visto anche nella presentazione la possibilità di fare addirittura degli slow motion In 4k a 120 fps nella modalità video Mentre stiamo letteralmente registrando Quindi cosa ancora più interessante Vi ricordo che è stata switchata la fotocamera Si passa da una 12 megapixel ultra angolare a una 48 megapixel La cosa che sicuramente fa fare ancora un salto ancora più professionale ai modelli pro È il mix audio Possibilità mentre si registra Gestire al meglio e regolare il suono delle voci Infatti avremo diverse versioni Avremo ad esempio in primo piano Dove potremo catturare solo le voci di chi è nell'inquadratura Studio che ricreerà l'effetto di una stanza insonorizzata Infatti hanno detto ieri che hanno fatto un grosso lavoro sui microfoni E il cinema addirittura potremo registrare tutte le voci che sono intorno a noi Quindi ancora più interessante Ed ecco qui la ultra grande angolare da 48 megapixel Con l'apertura se non ricordo mai Vorrebbe essere da 2 e 2 Quindi fotocamere entrambe adesso da 48 megapixel Sia quella principale che la grande angolare Il prossimo anno dovremo vedere degli switch ancora più interessanti Per quanto riguarda poi il passaggio all'iPhone 17 Qui potrete vedere quindi il comparto macro La 13 mm Ovviamente poi possiamo arrivare alla 24, alla 28, alla 35, alla 120 mm Con il teleobiettivo 5 perché Perché vi ricordo che quest'anno anche sul modello Pro Arriva al 5 perché l'anno scorso non c'era sul 15 Pro base Inoltre cosa molto interessante da sottolineare Per quanto riguarda il comparto fotografico Dovremmo, e di ieri non se ne è parlato Questo nuovo formato JPEG XXL Di cui sicuramente ne ritorneremo a parlare nei prossimi giorni Ieri hanno fatto vedere anche in merito ai microfoni E alle registrazioni video Che hanno registrato anche l'ultimo video musicale di Weekend Con l'iPhone 16 Pro Che quindi come vi dicevo ad inizio video Cerca di fare sempre un step più avanti Sempre più professionale Quindi è sempre da capire in che sezione E in che posizionamento vi volete andare a collocare Andandovi a comprare un dispositivo del genere Se poi avete bisogno di tutta questa potenza A 18 Pro come vi dicevo all'inizio video Che renderà ancora l'iPhone 16 Pro ancora più potente Con il Neural Engine a 16 Core GPU a 6 Core E il 20% dicono di più di memoria totale del sistema Andiamola a confrontare con un 15 Pro E dice che è un 15% più veloce Con la GPU che addirittura al 20% più veloce E qui ovviamente sta comparando un 16 Pro con un 15 Pro Ma la cosa che volevo farvi sottolineare Oltre al fatto che ovviamente più potenza Ieri tracing con l'accelerazione hardware Fino a più due volte Quindi anche per un'espressione più immersiva Per quanto riguarda il settore gaming Avremo addirittura 4 ore di più in autonomia Qui infatti si parla di fino a 33 ore di riproduzione video Su un iPhone 16 Pro Max E fino a 27 ore di riproduzione video su un iPhone 16 Pro Quindi hanno lavorato ancora di più Andiamo a fare sempre la comparazione Il 16 Pro avrà 4 ore in più rispetto a un 15 Pro E fino a 10 ore in più di riproduzione su un iPhone 16 Pro Max Ovviamente il 16 di settembre poi sarà implementato in questi dispositivi O meglio loro usciranno già di fabbrica con iOS 18 già installato Arriverà per tutti gli altri dispositivi Quindi i 15 Pro, i 15 Pro Max, i 15, i 14 Nei giorni passaggi vi ho fatto vedere anche tutte le varie conformazioni E tutti quelli previsti La gestione relativa a iOS 18 Che potrete andarlo a installare Peccato con quelle castrature che vi dicevo precedentemente Questa ragazzi è la panoramica per quanto riguarda tutti i Pro e i Contro Dei nuovi iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max Una cosa che comunque volevo farvi vedere per chiudere comunque il video È la questione relativa che comunque ci aveva aperto anche il video La gestione relativa ai prezzi Prezzi che non sono stati cambiati Quindi questo è sicuramente un bel Pro Perché lo Switch c'è stato soprattutto per quanto riguarda i Pro di quest'anno Partiamo sempre dai 1239 con un display da 6,3 pollice Ai 1489 per quanto riguarda un iPhone 16 Pro Max Display ovviamente da 6,9 Fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate Un bel commento, un bel mi piace Noi ci vediamo domani con l'approfondimento Dedicato all'hine-up di iPhone 16 e iPhone 16 Plus Grazie V contexto Grazie Grazie.